L'altra volta avevo detto che avrei portato sul canale alcune delle mie Hot Wheels Redline. Cosa sono le Hot Wheels Redline? Sono la prima serie di Hot Wheels prodotta dalla Mattel. Hanno iniziato a produrre nel 1968, quando ormai la Matchbox produceva già dei modelli molto interessanti. E la Hot Wheels, la Mattel, ha proposto queste macchinine Hot Wheels con, diciamo, le ruote per così dire veloci, no? E a differenza di quello che c'era sul mercato, queste potevano andare veloci. Infatti loro scoprono quella di utilizzarla sulle piste, avete presente le piste, quelle arancioni, per far divertire e far giocare ai bambini, no? Nuo Hot Wheels, solo da Mattel. California custom style cars, con power bulges, torsion bar suspensions, chrome engines, red stripe racing slicks. Nuo Hot Wheels. Ci sono più. Collate them by themselves o get them in action sets with special track and accessories. So you can race them. Or stunt them. Choose from the strip action set. A drag race action set. A stunt action set. A hot curves race action set. New Hot Wheels, only from Mattel. The fastest miniature metal cars you've ever seen. E quindi sono uscite le prime red line, che avevano in particolare queste ruote qua appunto col profilo rosso, col profilo rosso, qua si vede un po' meglio forse, col profilo rosso, ed erano ruote diciamo fatte appunto per andare molto veloci. E soprattutto cosa avevano? Avevano una colorazione così metallizzata, che quindi attraeva molto i bambini dell'epoca. Infatti la Mattel ha fatto la fortuna, i due giocattoli con cui ha fatto la fortuna la Mattel è stata la Barbie, inventata dalla moglie del proprietario della Mattel, e le Hot Wheels, che sono i due, diciamo, prodotti di punta della Mattel. Vedete, questa Mattel Custom Fireboard del 1000, questa qua del 1967, quindi questa qua è stata proprio, è una delle prime sedici uscite, eh. Ragazzi, questa qua è una macchina che vale, vale tantissimo adesso, eh. Io l'ho trovata, grazie a un amico, che me la procurate qualcuna, e guardate un po', si apre il cofano, vedete, guardate che belle che erano, si vede il motore sotto. Ed è tutto in metallo, cioè la pianale è in metallo, la parte interna è in plastica, e, diciamo, la parte interna è in plastica, addirittura col volante, vedete, di due colorazioni, cioè, gli interni sono maroni, volante è nero, eh. Quindi ci tenevano molto alla costruzione di questi modelli. Poi c'è il parabrezza, insomma, questa è un po' segnata, ma se pensate che dal 1967 questa macchinina che sta viaggiando in giro per il mondo. Le facevano già a Hong Kong, a differenza della Matchbox, che invece le produceva in Inghilterra, quindi c'è un valore in più la Matchbox, perché appunto le produceva in Inghilterra. Però il valore di questa macchina è che ormai sono introvabili e hanno raggiunto dei prezzi veramente stratosferici, e soprattutto qua in Italia e in Europa non venivano quasi distribuite, cioè, non erano conosciute, perché c'era la Matchbox, c'era la Corgi, la Dinky, c'erano tanti altri marchi, e la Hot Wheels veniva, insomma, distribuita, non come adesso che da tutte le parti, nei supermercati, la puoi trovare ovunque. E quindi è difficile trovarle, veramente difficile. Ora, questa è giocata nelle condizioni quelle che sono, però sono già felice di averla trovata, perché effettivamente sono molto rare. L'altra volta, a dire la verità, ho rinunciato all'acquisto di una Corvette, sempre della serie Red Line, che è appunto una delle prime 16, stupidamente l'avevo trovata, ma non ho neanche chiesto quanto costava, perché ho visto che aveva le ruote, diciamo, rovinate. Adesso me ne mangio le mani, perché è successo qualche mese fa, me ne mangio le mani perché effettivamente avrei potuto prendere e tenerla lì. E poi so che c'è qualcuno che le ruote, queste qua, diciamo, con il profilo rosso, riesce ad averle negli Stati Uniti, non so se sono repliche o meno. Quindi nel caso si possono prendere le coppie di ruote e tenerle lì, e poi un giorno, nel senso, quando c'è occasione, o cambiarle, oppure averle di scorta. Perché effettivamente sono macchinine particolari. E la capacità di queste macchine qua è appunto, guardate come sono molleggiate, roba che adesso le Hot Wheels non sono più molleggiate. Poi era proprio quella di camminare veloce sulle piste, andare veloce. Quindi a differenza delle Matchbox, che le prime Matchbox avevano le ruote sottili, queste avevano sbaragliato il mercato perché appunto erano fatte per andare velocissime. E quindi avevano sbaragliato il mercato. E poi soprattutto anche per questa colorazione qua, no? Questa colorazione così perlata, dorata, diciamo, no dorata, per così dire, è una colorazione un po' particolare, che non è neanche metallizzata. E proprio è una colorazione che ha un nome particolare, che adesso non ricordo, che ha questo effetto qua, vedete? Quindi è particolarissima. Hanno investito molto sul, diciamo, l'immagine di queste macchine. Perché ai tempi appunto, nessuno giocava con le macchinine, c'era una roba di latta, loro sono stati proprio i primi a produrre questo tipo di macchine. E hanno avuto successo, tanto che la Mattel poi è riuscita ad acquistare la Matchbox, dall'inglese della Matchbox, e è diventata leader mondiale appunto di queste macchinine 163, 164. E quindi, diciamo, con questo prodotto ha rivoluzionato il mercato proprio del modellismo di macchinine, e soprattutto ha conquistato il mondo. Perché ha conquistato il mondo? Adesso le Hot Wheels le trovi ovunque. Se a qualche bambino dici quali sono le macchinine, ti dice le Hot Wheels. Difficilmente ti dice le Matchbox, perché conoscono le Hot Wheels, perché ormai sono ovunque. Quindi questa è stata una proprio delle prime, le prime 16, le famose prime 16 Hot Wheels, che hanno, sono uscite appunto 67 e 68. In teoria l'uscita ufficiale è 68, però questa è prodotta nel 67. Quindi questa macchina qua ha un valore estremo, perché l'ho vista in giro a dei prezzi veramente spropositati. Io sono felice di averla presa da questo amico, insieme a un lotto di altre macchinine. Purtroppo sono giocate, sono mal ridotte, cioè nel senso sono così e hanno le ruote così, sono giocate, però sono già felice di averle queste. Perché ho visto che quelle in condizioni impeccabili, o addirittura anche nelle confezioni originali, costano, ho visto anche 15 mila dollari una macchinina di queste. 15 mila dollari una blisterata, quindi potete immaginare. Ora, ci sono quelle patite e che hanno anche un sacco di grano che se lo possono permettere. Io francamente spiene 15 mila dollari per un modellino, non me la sento, non ci penso minimamente, a dire la verità. Però poi so che negli anni acquisteranno valore, però investo in qualcos'altro, in qualcos'altro magari di un po' più sicuro. E niente, quindi questa è la prima che porto sul canale, per la prima volta porto le redline, una redline. Poi adesso mi è venuta un po' la scimmia, quindi ne sto cercando, ne ho delle altre che poi porterò sul canale prossimamente, quindi mi raccomando, se non l'ho ancora fatto qua, iscriviti al canale lì, iscriviti al canale su una campanina e lasciami un commento cosa ne pensi di queste Hot Wheels, vedete che bella che è, guardate che bella. E pensare, quando me l'ha proposto questo mio amico, mi ha detto, guarda, le vuoi? Ho trovato questo lotto di redline, le vuoi? Subito gli ho detto, ma non so, sono stato incerto, infatti l'ho tenuto in sospeso per un paio di settimane. Poi sono andato a vedere, ho detto, ma sì, dai, va bene, dai, le prendo, anche se, di verità, non ne ho convinto perché c'è tutte le ruote così rovinate. Poi ho trattato sul prezzo, devo dire che l'ho pagata praticamente, veramente, un valore ridicolo, perché è un amico, mi ha trattato molto bene e poi è andato a vedere su internet quanto costano. Ma noi non siamo commercianti, noi siamo collezionisti, quindi ce le teniamo. Quindi sì, ho fatto un bel affare, sicuramente gli affari interessanti li fanno i commercianti, quelli che le comprano poi li rivendono, noi ce le teniamo perché sono dei pezzi particolari. Poi un giorno magari Craffio o Scarlett se le venderanno tutte, quando non ci sarò più io e si compreranno quello che vogliono. Però la mia passione è questa e niente, quindi magari adesso andrò a caccia di qualche redline. Non è facile, non è facile perché sono tutte devastate, quelle belle, vi ho detto quanto costano. Ho trovato a 15.000 dollari una macchinina blisterata, ma chissà. Dintemi voi se ne avete, se avete qualche modello fatemelo vedere perché sono veramente curioso. Quindi queste sono le prime delle 16 macchinine costruite da Mattel, dove tutto è iniziato da questi modelli qua. Tutta la nostra malattia è iniziata da questi modelli qua. No, a dire la verità a me è iniziata con le matchbox, perché io conoscevo le matchbox da bambino. Avevo le matchbox, quindi diciamo, per quello che non le volevo quasi acquistare, perché per me non aveva un significato, frisco più una matchbox, una Lesney. Però poi pensandoci bene ho detto, ho fatto veramente bene ad acquistare, e anzi adesso vengono a caccia delle altre. Trovarle tutte e 16 è impossibile perché alcune hanno, anche se sono, diciamo, l'uso, cioè quindi non nella confezione, hanno un valore estremo. Pensate che il fulgoncino della Volkswagen, che l'ha fatto solo in due esemplari, ha raggiunto il valore di 170.000 dollari. 170.000 dollari è una macchinina, perché l'ha fatto in due esemplari e un collezionista ce l'ha e vale 170.000 dollari. Pazzesco, quindi chissà questo è un giorno. Un giorno magari mi vendo questo e mi compro una macchina vera. Mi compro un modello vero, perché davvero stanno raggiungendo delle quotazioni incredibili. Niente, dai, questo per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ci sono delle altre, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale, perché sapete che facciamo uscire video ogni settimana, adesso non ho più una cadenza fissa. Quando riesco, perché sono un po' impegnato col lavoro, quando riesco li faccio. Ne ho già preparati tantissimi, che adesso piano piano li metto sul canale e andiamo avanti con la nostra collezione e con una piccola malattia da caccia di macchinina. Sempre a caccia, a caccia, a caccia. Adesso esco e vado a caccia di macchinina. Però è una gran bella soddisfazione trovare dei modelli così esclusivi. Niente, dai, ci vediamo alla prossima allora. Mi raccomando, se non è ancora fatto lì, iscriviti al canale, suona la campanella. Se ti fa piacere, guarda anche quel video lì e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, se hai degli amici appassionati, condivitilo, perché abbiamo bisogno di crescere. Ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao, ciao. Ciao a tutti.